La via ti plasma. Lo spirito ti perfeziona. Dinamite! Vendetta! Sofferenza resa manifesta. Centro. Com'è il mio rapporto uccisioni morti? Il nemico è a terra, Medino. Illuminerò la mia via. Attirami fuori. Vai avanti. Mi sento inarrestabile. Impatto. Egetto triomfante. È stato... grandioso! Che kids ne vi guidi! È stato un onore. Mi basta solo un pugno. Che uccisione! No. Siete in presenza di una leggenda. Siete in presenza di una leggenda. Che... 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 ... Che... ... Grazie a tutti.